Benvenuti alla 61esima parte di Final Fantasy Tactics Advance, un altro monstro foresto e purtroppo ho già visto che è una monstruosa pianta. Ora, quante monstruose piante ci sono in questo gioco? Franchamente me ne viene in mente solo una. Imo il boro. Oh cacchio. Sarà una bella missione. Dov'è? Se non è in città, taglio e la cerco, perché già so che durerà tanto. Bene, è qua, nella palude Uladon. Che razza di nome è, palude Uladon. L'ho notato solo adesso. Oh, avevo ragione. Per chi sa perché non sono contento di aver avuto ragione. Ok. Jellac e Mountblank sono i soliti, poi vorrei portare Neville. e Yankee, siccome non hanno partecipato alla scorsa missione. Piante, eh? Ancora opera dei Red Wing? Un attimo, ho visto un secondo molboro, sono due. Potrebbe essere una cosa positiva, magari non sono forti come i primi, se sono in due. Magari sono forti quanto i primi e sono in due. livello 36 livello 42 oh fuck oh fuck legal card talenti, pugnali e cerchi a mezzo bene, so cosa fare credo posso vedere il suo raggio d'azione? non mi ricordo, non è Fire Emblem, ma... no, non posso. Pronto soccorso. Spero che non vengano giù tutti e due insieme. Magari cadono giù facilmente, cioè sono di livello alto, però... non sono resistenti come i primi due? per favore posso già colpirlo da qui? no, è troppo lontano allora, se posso affrontarli uno a uno no problem beh, ci sono i problemi dati dal fatto che usano gli status e sono forti ma almeno è fattibile se sono tutti e due insieme aiuto non so cos'altro dire aiuto sali di livello Neville magari sarà utile farà un po' di danno in più, almeno girati di qua ok, Mountblank so cosa fare tu dovrai darmi una grossa mano adesso azione totema spero che gli faccia tanto dai, almeno 200 a testa per favore ora, mancato no, 79 e 56 oh, è troppo poco almeno è salito di livello non scendi, vero? sta scendendo oh, shit questo si avvicina meno male che sono lenti, almeno ci arrivi? no, non ci arriva fuck curati così, a caso dai, Yankee che sei la mia forza d'attacco principale beh, almeno non sono resistenti ai danni fisici come i primi due non sembrerebbe quanto gli faccio ah, ok sono dei danni accettabili fuck 80% da dietro vediamo magari funziona meglio da dietro 15 no, perché gli fai così poco Neville ah, perché è un'arma scarsa è vero ma devo imparare l'abilità di quell'arma quindi oh, iaiai Neochua è davvero così veloce ah, è vero che si sta solo muovendo non dovendo agire si muove più velocemente vediamo la magia quanto gli fa eh, gli fa dei buoni danni devo cercare di eliminare questo il più velocemente possibile per poi concentrarmi sull'altro dai Yankee fuck it Yankee perché è così poco 5 in totale gli ha fatto wow e non posso nemmeno usare i talenti per magari infliggergli qualche status oh, ci sta provando lui a infligermi qualche status cos'è? mi ha colpito, vero? cos'è? cieco? muto? e basta, ok niente di estremamente grave la cecità beh, contando il fatto che gli fa così pochi danni fa niente ok, continua ad allontan... oh, critico bene posso attaccarlo solo da davanti vabbè, fa niente scriva... oh ah, non fanno così male va bene hmm Yankee un compito per te Yankee farà da... esca esca umana dovrà farmi guadagnare un po' di tempo vabbè, questo è già quasi morto non serve poi così tanto ok, non fare alito fedito ok, lo sta facendo ma su... ah no, sta solo attaccando cacchio al critico vabbè, anch'io gli ho fatto un critico diciamo che siamo pari adesso bene, è tempo di finirla uno in meno bene, è rimasto solo l'altro che però è il più forte dei due che abilità blocca a fretta ah, ma li subisce i danni questo bene molto bene allora fa una cosa Yankee allontanati e usa il pronto soccorso dov'è? perfetto il pronto soccorso mi può curare sia dalla cecità che dal mutismo ottima cosa ottima cosa oh, mi ha anche dato un G-point grazie Neville, mettiti qua attaccherò al prossimo turno non ha senso attaccare ora che perché Neville si farebbe solo uccidere in questo caso girati di qua ok, viene avanti Neo-Chu strano perché è andato di là? ok, vediamo quanto gli fa la magia Firaga 54 forse questo è leggermente più resistente alla magia che ha gli attacchi fisici beh, sinceramente la cosa mi fa più piacere che altro visto che ho tre attaccanti fisici e uno magico in questa squadra ok, Yankee vai qua usa un'altra volta pronto soccorso così, tanto per pronto soccorso può tornare utile in alcune situazioni, è vero adesso mi sta salvando perché Yankee può tornare a combattere al 100% Neville ne dubito tecniche battere tecniche combattimento follata d'aria non ci arriva, vero? no, però il pugno a distanza, sì e gli fa parecchio male, dai colpito, bene oh, è level up di Jerak, bene è già al 26 queste missioni dei mostri foresti sono lunghe ma mi stanno facendo salire di un sacco di livelli quanto gli farebbe Neville? 33 magari un'altra volta Neville voglio farlo avvicinare ancora un po' e soprattutto non voglio che Neville muoia a caso cavolo, ma Neville si cura pochissimo? forse dipende anche dalla magia, non lo so perché i ninja un po' di attacco magico ce l'hanno e infatti Neville tu Neville Yankee si cura di un sacco in confronto a Neville cosa vuoi fare? ok, però questo fa più male mi ha anche colpito fuck fuck magia nera fiii raga presto mount blank questa è una brutta situazione chi tocca? Yankee vai Yankee vai Yankee fagli male mi raccomando molto male oh critico grande e Yankee sale di livello bene tocca Neville Neville vai davanti davanti più improbabile che lo colpisce ma fa niente ok bravissimo Neville prende 50 netti di esperienza wow eh 82 provassi con la lama estrema ma no no non ha senso se mancassi il bersaglio potrei mandare a monte la missione e non ci tengo sinceramente chi colpirà? nessuno? wow fuck è una trappola quanta vita 129 beh è la cosa più la cosa più sensata da fare schiva Gerak schiva non ha schivato ho preferito colpire lui perché tanto è già un livello abbastanza alto invece Neville e Yankee voglio farli salire almeno un po' dovrei essere in pericolo giusto? nah ancora pochi attacchi ed è morto meno che non ha una mossa che uccide tutti ok Neville vuoi dargli il colpo di grazia? puoi farcela eh critico colpo di grazia critico perfetto e anche Neville è salito di livello wow alla fine ce l'ho fatta e non è nemmeno durata tanto la missione bene si resuscita serpenti tartarughe piante mostri foresti di tutti i tipi spero che siano gli ultimi questi cioè dai erano in due forse l'ultima beh lo scoprirete nella prossima parte di Final Fantasy Tactics Advance ciao a tutti aspetta si è unito qualcuno magari troppi oggetti gelo e preghiera fuck it ok ci vediamo col prossimo video e ciao a tutti Grazie a tutti.